Benvenuti nel mondo di ZRC. Fondata nel 1904, l'azienda ha iniziato il suo percorso come specialista nella produzione di bracciali e cinturini per orologi da taschino. Nel 1917 l'azienda ricevette l'ambito attestato dell'Industrie Nouvelle a Ginevra, per la creazione del primo bracciale estensibile al mondo. Questo riconoscimento consolida la posizione di ZRC come pioniere nell'evoluzione degli accessori per orologi subacquei. Il giugno 2017 segnò un altro momento significativo nella storia di ZRC, quando insieme a un piccolo gruppo di artificieri sommozzatori, organizzò una giornata di collaudo per valutare l'orologio ZRC in condizioni operative reali. Il Grands Fonds superò la prova con successo, e nel giugno 2018, 175 sommozzatori artificieri e da combattimento ricevettero il loro ZRC in edizione speciale su richiesta privata. Questo risultato fu una testimonianza incontestabile della qualità e della durata dell'orologio iconico Grands Fonds 300, di ZRC. Il 2018 fu anche l'anno del sessantesimo anniversario della storica partner di ZRC, la scuola di immersioni della Marina Nazionale Francese, fondata nel 1958. Questo anniversario celebrò sei decenni di impegno nella formazione di unità operative subacquee. In conclusione, ZRC continua a brillare come un faro di eccellenza orologera e innovazione, offrendo orologi che non solo raccontano storie del passato ma aprono anche nuovi capitoli emozionanti per gli appassionati di orologi di tutto il mondo. L'eredità di ZRC è viva, pulsante e pronta a scrivere nuove pagine nel libro della storia dell'orologeria.